Musica Voglio continuare a dirvi qualcosa sul rigidismo Di cui abbiamo già iniziato così ad abbozzare qualche piccolo concetto Qualche piccola riflessione ma anche provocazione nella puntata di ieri Il rigidismo è un atteggiamento da evitare nell'educazione Anche nell'educazione alla felicità Perché il rigidismo non rende felici ma schiavi E vedete che l'ho detto ieri ma lo voglio ripetere Il Signore non ci vuole rigidi ma felici Non ci vuole soldati ma figli Non è un caso che la scrittura spesso torna su questo aspetto Queste parole di Isaia ci fanno comprendere Come la rigidità, l'apparenza, il ritualismo Non è cosa o non sono cose gradite al Signore Questo popolo mi onora con le sue labbra Mentre il suo cuore è lontano da me Questa è la situazione delle persone rigide Delle persone non libere dentro Delle persone non convinte Il Signore non ci vuole esecutori O degli automi che fanno E che dicono Quello che dicono gli altri O che dicono a memoria La parola della scrittura O che vivono i riti Che sono delle cose stupendi La liturgia è la ricchezza della nostra fede Perché la liturgia che cos'è? Se non l'incontro tra Dio e me Bene, quegli incontri tra Dio e me L'incontro con la parola Non vanno vissuto in maniera rigida Non vanno vissuto Non devo partecipare alla Messa Perché è il precetto della Chiesa Che me lo dice Se la Chiesa dice che è un precetto Andare a Messa la domenica Almeno la domenica Utilizzando questo linguaggio Ci vuole dire la ricchezza che c'è dietro Il nostro andare a Messa Quindi io vado a Messa Non perché tra virgolette me lo dice la Chiesa Ma perché me lo dice il mio cuore Ma perché il mio cuore Cerca di essere vicino al Signore Vi ripeto la parola di Isaia Questo popolo mi onora con le sue labbra Mentre il suo cuore è lontano da me Ci riempiamo la bocca di Dio Della Madonna Dei Santi Delle feste Dei precetti Ma poi il nostro cuore dov'è? E si vede Quando io partecipo all'Eucaristia Quando io prego Quando io partecipo anche a una processione A una festa religiosa Se ho il cuore vicino a Dio O lontano da Dio Perché posso essere cristiano Solo perché dico di esserlo Ma pur dicendo di esserlo Non lo sono Perché il mio cuore è lontano dal Signore Quando ho un cuore pieno di odio Di rancore Ho un cuore che tenta semplicemente Alla autoreferenzialità Quando ho un cuore che mi porta semplicemente Alla mania di apparire Tutto questo È avere un cuore pieno di me stesso Ma lontano dal Signore Forse vengo a Messa Forse prego O faccio questa festa O partecipo a questa confraternita Piuttosto che all'altra associazione Ci vediamo domani Padre Pio TV Dritto al cuore Ciao Grazie a tutti Ciao Grazie a tutti